la carbonara è il confine tra il bene e il male mo me devi levata al fuoco se no te frego un momento prima è acquosa, lenta, un attimo dopo è frittata l'acme dura un attimo, non fartelo scappare ingredienti per 4 persone 400 grammi di rigatoni 400 grammi di guanciale 50 grammi di pecorino 50 grammi di parmigiano 4 uova un cucchiaino di olio mezzo bicchiere di acqua minerale gassata, fredda mezzo bicchiere di vino bianco pepe nero, quanto basta preparazione portare l'acqua a ebollizione calare la pasta tagliare il guanciale a listarelle e metterle in padella con l'olio e far rosolare il guanciale fino a quando non diventa lucido sfumare con vino bianco togliere dal fuoco e far raffreddare aggiungere le uova aggiungere l'acqua minerale battere il tutto con una forchetta scolare la pasta al dente rimettere la padella sul fuoco e agitarla continuamente fino a quando l'uovo non raggiunge la giusta cremosità spegnere il fuoco aggiungere il pepe, il parmigiano e il pecorino mantecare in padella e servire coefficiente di difficoltà da 1 a 5 5 tempo di preparazione 20 minuti vino laziale in abbinamento passerina del frusinate dente gioco e 500 bianco e